cinturone tipo al ice primi anni 90 una replica di quello più famoso americano fibbia anteriore in tecnopolimero nero si sgancia in maniera molto semplice e si riaggancia per sganciarlo si premono le estremità e viene via la regolazione facilissima si sgancia questo passante metallico si solleva la leva si sbottona l'automatico di fermo e si fa scorrere fino alla lunghezza desiderata dopo di che si ripete l'operazione inversa bloccaggio con la leva passante e chiusura col bottone i fuori presentano tutto il cinturone servono per agganciare taschine e materiali vari realizzato in ottima cordura molto resistente